Quali sono le cose importanti da poter portare avanti? La natura, il processo, l'ore di mandorla, il latte d'asina, il nostro famoso latte d'asina ragusano. Io ci faccio il sapone. Pensate che Cleopatra aveva già il latte d'asina e ci faceva il bagno, perché rende la pelle liscia, pulita. Io vado a comprare un'azienda, una ragazza che si è scommessa a rifare ancora gli allevamenti di latte d'asina, è qualcosa di sublime.